Ciao Campobasso, grazie a tutti! Benvenuti! È guarita dal Covid da pochissimi giorni, ma sul palco di Campobasso arriva in grande forma. La carica di Elisa travolge per due ore di musica e energia i 3000 arrivati per l'atteso concerto di Selva Piana. Lei non delude le aspettative con il suo Back to the Future Tour, che oltre ad avere al centro la musica, ha come protagonista le tematiche ambientali. C'è anche un video messaggio del Dalai Lama. La scaletta del concerto è un susseguirsi di grandi successi dal passato e di canzoni del suo ultimo disco. Dal palco Elisa ringrazia il pubblico molisano per l'accoglienza ricevuta, urla più volte, il Molise esiste, racconta delle splendide persone che ha incontrato in questa regione, come i ragazzi dell'Associazione Persone d'Avo. Il pubblico canta a gran voce tutte le canzoni, emozione per il grande classico di Leon Alcon, Alleluia, e poi Standing Ovation con Gli ostacoli del cuore. Non mancano i successi sarremesi, Luce che vinse il festival vent'anni fa e o forse sei tu che si è piazzata al secondo posto quest'anno. Alla fine pubblico tutto in piedi per dire grazie ad una delle voci più belle della musica italiana.